Ben ritrovati all'appuntamento con Cinema News, il settimanale di informazione cinematografica di Avriai. Che ci crediate o meno, sono passati ben 30 anni dall'uscita di Ritorno al Futuro, uno dei film cult per eccellenza. Per festeggiare l'occasione arriva non solo un'edizione celebrativa del DVD, ma al suo interno anche un nuovo ed esclusivo cortometraggio inedito, chiamato Doc Brown Saves the World, nel quale Christopher Lloyd torna a vestire i pani dello stranunato scienziato. L'edizione celebrativa conterrà anche una retrospettiva sulla trilogia, un documentario sul restauro della DeLorean e due episodi del breve spin-off animato. Tutto per tenerci pronti alla fatidica data del 21 ottobre 2015, ovviamente. Questa settimana è stata molto importante anche per il cinema italiano. È stato scelto, infatti, all'interno di una rosa di nove nominati, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2016. Si concorre per la statuetta di miglior film straniero e a portare alta la nostra bandiera sarà il film postumo di Claudio Caligari, Non essere cattivo, già presentato fuori concorso al Festival di Venezia. Valerio Mastrandrea, produttore del film e grande amico di Caligari, ha dichiarato che per lui l'importante è che questa notizia aiuti il film a restare nelle sale, perché i film, al di là dei premi, sono fatti per essere visti. Si torna di nuovo a parlare di Joker, ma stavolta del Joker di Jared Leto in Suicide Squad. Secondo le dichiarazioni dell'attore, infatti, la sua sarà una delle versioni più disturbate mai portate sul grande schermo. Anche se non ha parlato nel dettaglio del suo ruolo, l'attore ha detto scherzando ad un fan, non vedo l'ora che lo vediate, dopo questo film mi rinchiuderanno. Ma riuscirà a catturare la stessa attenzione dei suoi predecessori, compreso Heath Ledger ed il suo Oscar? Fast and Furious è uno dei franchise più amati dal grande pubblico, soprattutto dopo l'emozionante capitolo numero 7 dedicato alla prematura scomparsa di uno dei suoi attori principali, Paul Walker. Dopo tanto parlare sulla produzione del numero 8, Vindy se l'ha rotto finalmente gli indugi su Facebook, rassicurando i fan. L'attore ha confermato infatti che rivelerà presto il nome del regista e ha anche affermato che questo è solo l'inizio di una nuova trilogia che concluderà la saga. Ci aspetteranno quindi anche un numero 9 e un numero 10 prima di dire addio definitivamente alla banda di Toretto. Un altro iconico franchise ha avuto in questi giorni l'attenzione dei media. Si tratta di Man in Black, trilogia con protagonisti degli stremiatori di Alieni che ha fatto la fortuna di Will Smith. Nonostante questo, a quanto pare l'attore non sarà protagonista del reboot della trilogia originaria e nemmeno al centro della produzione. Lo confermano i produttori che dichiarano di volerle inventare il brand attraverso una nuova trilogia. Addio a Tommy Lee Jones e a Will Smith quindi, nell'attesa di vedere cosa ci riserverà il futuro. Il sequel di Independence Day è molto atteso, ma non sarà l'unica novità riguardante l'iconico film. Tra la pellicola originale e il sequel ci sarà infatti un notevole salto temporale, riempito da un fumetto. Lo svela la Titan Comics, che rilascerà una serie a fumetti su Independence Day per entrare con piacere nel modo del blockbuster del prossimo anno, prendendo il mito dell'originale ma aggiungendo qualche dettaglio in più. Si espande quindi l'universo narrativo, in attesa di Resurgence, che arriverà nelle sale in tutto il mondo nel 2016. Per il fin della settimana vi segnaliamo il grande ritorno di Johnny Depp nei panni del gangster James Bulger. Si tratta di Black Mass, pellicola presentata fuori concorso all'ultimo festival di Venezia, che racconta la storia di uno dei maravitosi più famosi degli anni 70. Grazie alla singolare alleanza con un ambizioso agente dell'FBI, suo amico di infanzia, Bulger costruì una rete di potere, che lo portò ad essere uno dei criminali più temuti del suo tempo. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con Avriai Cinema News.